ciao a tutti oggi vi vorremmo far vedere dei portasigarette che ci sono arrivati pochi giorni fa dalla ditta cartugliano sono dei portasigarette fatti per le sigarette slim, sigarette normali, pacchetto duro e morbido e le sigarette 100 che sono un po più lunghe la particolarità di questi astucci che sono fatti con due tipi di pellame vitello martellato normale o pelle saffiano praticamente è sempre un tipo di vitello però è trattato a cera è idrorepellente e ha questa particolarità del motivo a riga incrociato molto bello morbido un altro tipo di pellame più pratico la bellezza di questi portasigarette è che sono di una pelle conciata molto bene perché si possono maltrattare e tornano nuovi come prima abbiamo un'infinità di colori e basta più io volevo far vedere questa novità a presto